Eėėėėė Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Sapete ragazzi Sono appena tornata con la mia moto Da un lungo viaggio sulle strade del Tennessee Sulla Route CCC Dove ho avuto il piacere di scoprire Una cosa bellissima Il potere della musica Pensate che sarà proprio la musica A rendere i miei piloti Ancora più forti e invincibili Eh sì, eh sì, eh sì E ti dirò di più, ti dirò di più Con l'aiuto di questa chitarra E del suo magico suono Anche la mia nuovissima invenzione Sarà imbattibile Non ci credete? E allora vedo subito una piccola dimostrazione Sulle mani Anche la mia in fondo È proprio questo quello che intendevo L'energia della musica La carica della musica Voi vi sentite carichi? Sì Devo dire che effettivamente Siete abbastanza convincenti Però secondo me si può far di meglio Siete carichi? Sì I ragazzi da giù in fondo Secondo me sono un po' timidi Voglio sentire solo loro Uno e tre Sì Tutti insieme? Sì E questo è lo spirito giusto che ci vuole E allora adesso tutti insieme Sopri mani, sempre mani Che portiamo il tempo E diamo vita a questa bellissima 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 e questo è lo spirito giusto e allora letgo faccio il schieno questo è un risarco per gli affetti troppo insieme avuto il risparmio dell'aspetta stiamo occupando ma cosa sarà succedendo? non sarebbe veramente sottortato 5, 4, 3, 2, 1, 0 aiuto, aiuto mi stanno inseguendo aiuto, aiuto 5, 4, 3, 2, 1, 0 aiuto 5, 4, 3, 2, 1, 0 faccio attenzione, levante la piedra a la scala guarda che non si può mai stare tranquillo ero al bagno Venezia Cesenatico sono dovuto correre qua a guarda te Luca arrivo, arrivo, arrivo fermi, fermi piano, piano, piano pacchetto da questa parte eccomi, eccomi arrivato Citeri da principio grazie per essere accorti tutti i numeri ad aiutarti state seguendo Tirobot a Movitis vabbè, l'ha spaccata vabbè tutto il cantinello ma guarda che Citeri si era già quasi un pezzo all'ospettato o le cose significate cosa volete dalla mia amata e tranquilla Citeri da la città che è un po' di attrappoganti qui vogliamo tentare ancora la novità di conquistarla di conquistarla Citeri da come faccio in questa città l'amica facci tranquilla diglielo diglielo con le mani con le mani con le mani granchi sì granchi l'avete fatto venire in mente come una cosa la capazza città non sarà mai vostra voi non mi piacciono la città si è vero quando noi abbiamo i piloti non guardi nel mondo la magica di Tirobot e quindi sono qui a lanciarvi la nuova sfida la vostra tecnologia contro la nostra abilità qui Citeri sarà un gioco da ragazzi battendole definitivamente ma cosa dici fa 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 e ora ve ne diamo un assaggio non ci minacci altrimenti anzi no andiamo a prendere la macchina super tecnologica con le mani con le mani con le mani via 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 no Sì, sì, sì. Grazie a tutti 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 5 secondi per rispondere a questa domanda Ho sette chiavi che non apro Né porte né caccelli Posso essere letto? Letto? Allegra Don Selino Facile Gabriele Ti ha aiutato? Bravo! Il carillon! No, era la musica Grazie a lo stesso Senti la cosa più importante Che grazie alla musica e alla tecnologica Noi avremo i nostri piloti Ancora più tecnologici Più forti, più potenti Di tutte cose La cosa più importante è avere quello che ci vedete Così, i muri, da tutto Ma signor sindaco Ho la mia nuovissima attenzione Il rockbott? Chiamalo, chiamalo, chiamalo Chiamalo Ma che sta di spesso? Ma io non capisco niente Di solo che dico Ecco, questo si No, no Bene Bene Sì L'ok, lo capisco? Ci stava tutto Voi avete capito qualcosa? No Ce lo facciamo per la dura, Bob? Caro sindaco il mio rockbott È pronto perci una mano? Chiamalo E allora Foglio mio Adesso Ma ero che stava alla piscina delle onde Tranquillo, rilassato Vi andiamo a rompere questo Guardate La roba Questa 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 la roba Ma io non le posso riprendere Prego, prego, vieni Rockbott Arriva, per me È schierare il funzionamento Arriva il campionissimo Eccolo Evviva il Rockbott Vieni Sì, sì, adesso ce lo spiega. Caro cittadino, il Pierotto, con oltre a essere un grandissimo pilota, ha dei poteri sopranaturali. Abbiamo visto che è grande, praticamente è un sensitivo, di nepatia. Io gli trossi con tessere e lui lo realizza. Lo mettiamo all'opera subito, perché io ho bisogno di fare macchine. Una giallura, questa è una bella. Che no, go! Lo penso, perché abbiamo bisogno anche degli stanchi. Hai creato le macchine. Anche i piloti. E se è un portetto, gladissimo! Continuiamo così a rifare. O qui! Quella è un portetto, due mani. Dove? Portetto, in poi, bravo. Prima di scelta, la sinistra. No? A sinistra. Lo detto, a sinistra. A sinistra. O, a gente mi ha intenzerto. Oh, come è simponenni. A me carhome, a me caranno. No con duro! No con duro! No! No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non abbiamo tempo a perdere, vogliamo iniziare con la prima sfida. Ha ragione la signorina, prima sfida sia. E allora, via con la sfida di accelerazione. Proprio perché hai detto la parola accelerazione, arrivano anche le ragazze a poco. Poco è giudato, rimane le sorelle. Ehi, basta, 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 basta. Vai, 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 vai. Va stato tranquillo e sereno. Vai, me ne vado, me ne vado. Parti, partiti. Vai. Parti, partiti. Corri, ragazzo, lascio, tattara. Vai, 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 vai. Bridi, bridi, lo sapevo. C'è la ritrovata. Guardi. E se ne vede, sono più grandi luce. Vai, vai. E' inutile, la ridicità non te la daremo mai. Vabbè, se proprio insistete. Oh, ripartito. Ah, vai. Questa volta abbiamo perso proprio... Vabbè, dai, non mi va andare così. Andate tutti, fratelli. Abbiamo perso, fratelli. Vai, che addosso, che non si tratta. Fermo. Fermo, lì, che vogliamo andare. Arrietrati. Sì, cari, anzi. Te lo diciamo nuovamente. Bravi, bravissimi. Dei casi incredibilmente precisi. Purtroppo, Bob, la prima sfida di oggi è tutta del team. DELLIN ROW! 1-0, ma recuperiamo. Vedo che Ciccaro, Ciccaro con la prossima sfida che è quella di E.FILIPRIO. Bella. E' un altro momento, avrai io l'aggiunta, vita mia, ad andare con i piloti. Noi siamo pronti, sì. Vai, tranquillamente. Siamo pronti, invece, da quella parte con i campioni del team. avversario. E' una sorpresa che mi piace. Brava signorina. Complimentò. Ecco, anche lui veramente fa la differenza. Bravo figliolo. Vai da quella parte. Prontissimi, lanciatissimi. Arrivano i campioni del team. All Twins contro i campionisti di avversari. Con l'officina della musica. Le mani, le mani, le mani. Vai, 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 vai. Ecco, le mani, arrivano. E sono loro, con le cordote più famose del mondo. Che spettacolo, che meraviglia. Che onore anche quest'oglio, ospitarvi qui. Allora, ragazzi. Stati veramente unici. E' talmente bravi. E' difficile riuscire ad assegnare un nuovo punto. E allora, tagliamo la testa al topo da questa parte. E rifacciamo le due ruote. Che, bravi tutti, eh? Non è facile. Riuscire a te. Poi, poi sassi. Facciamo credere che siano bravi anche loro. Ma adesso li facciamo via. Bravi, ragazzi. Adesso, adesso, adesso. Attenzione. Perché da quella parte siamo nuovamente in equilibrio. E noi vogliamo conteggiare tutti i nostri super campioni. Sono due, quattro, sei, otto, deci. Le ruote in movimento. Belli. Anche questa disposizione è spettacolare. Ovviamente, ah, mi ricacchia qui. Va bene, nessun punto, dai. Ora, facciamo due minuti. Prova di equilibrio annulata. Ci passa la prova di resistenza. Un solo campione. Si resiste. No, non ci si arrende. Non ci si arrende. Lo sapevo. E visto che ti avevo detto, la rossa accetta. La tua accetta. La vera, la direzione di sfumatura. Accetta la sfida. E siamo prontissimi, prontissimi, per questa nuova sfida. Il punto rimane in casa. O qui! Eccoli che tornano. e sono straordinari. Vai, 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 vai. Campioni! Talmente bravi. Sono orgoglioso di noi. E già nella pista superiore avanza il campione e tipo qui, con la macchina verde. Con le mani, con le mani, con le mani. Nella pista interiore. Campionissimi. La gara. E' la macchina blu. Emozionale in questo momento. E' tanto che lo voglio condividere insieme a voi. Un bel cibo non te lo toglie nessuno. Dai, campione del team Office. Forza rossa. Forza blu, forza verde. Un suo campione, il migliore, se esiste. Il più buco possibile sulle due ruote. Con le mani, con le mani, con le mani. Grandissimi. Vai. che vi fai? Oh, vai. Adesso la scelta l'alto di la gara. Non ci dà. Vai, che il campione con l'altoventura verde e a questo punto l'alto è pronto a tornare indietro dopo averne fatto i suoi 360 gradi sulle due ruote. Vai, campione. Anche l'alto parte i campionissimi di Dimo Green oltre la rampa e prendono l'inversione. Con le mani, con le mani, con le mani li sosteniamo fino alla fine. Bellissimi. E sono straordinari. Grandi campioni. Ben cinque, ben di coloro. E' meglio in testa. Vai, che vi faccio girare la ruota. Tieni. Eccolo. Cangerissimi. E questo è il lavoro con l'originale per saltarci. Bravi, bravi. Ciao, ciao. Prima non solo campione ed alcune che finitano sulle due ruote la risposta ma vuole venire a saltarci. Sta vicino e ovviamente a qui si ritambia il saluto. Go, 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 go. Allora, brucia, brucia. Grande. Eccolo. Fantastico. Basta, basta, basta. Basta, basta. Sessione al campione di un griglio. Pronto a battere ogni record. Vista sul finale. Pronto a scendere forticamente dalle due le quattro ruote. Forza, campione, campione, campione. Go, 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 go. Che meraviglia, che spettacolo. Bellissimo. Ci aspettiamo qui, eh. Occhio che arriva, arriva, arriva. Vai, 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 vai. Eccolo. Buon appetito. Punto, punto, punto. Bravo, bravo. Bravo. Noi la picca era. Vinti, vinti, vinti. Vai, vai, eccola. Benzazzissimo. Che spettacolo. Vai, 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 vai. Vinti, 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 vinti. Vale. Vinti, vinti, vinti. Vinti, vinti. Vinti, vinti. Vinti, vinti. Vinti, vinti. Anche lui però, fenomeno, fenomeno, fenomeno. Bravissimo. Avviso. Quando di nuovo, lo rompo così nei pari. E punto è tutto. The team, ha win. E' una vita, bella vita. E' una vita, bella vita. E proseguiamo con questo sfidato, che è lo sfidato del suo e testa. Testa, bella. Sfidato, adesso c'è. Però attento che devo passare subito, eh. Otto, spagliotti. All'altro, che non fai un spiritoso perché dovrei sperare. Andai, 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 andai. Vai, non ti ripartiti i nostri campioni del team a pensare. Siamo avuti, noi abbiamo perso, eh. 2-1, no, no, no. Ai, 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 ai. Vale, ma voglio vedere anche dopo il piano se avessi un ragazzo per 100 secondi dal musico guarda che spettacolo. Questo modo originale di andare a testa in giù. Bravo, bravo campione. Un saluto che riascita in fondo. Vai in giro, consigli. Fantastico. Però che cosa avevamo detto? Il solo dentro il primo da andare a testa in giù si sarebbe a giudicare il punto a capo il titaco e purtroppo il punto è giunto per tutti i robot. 2-1, ma adesso vale il calcio. ci staregiamo con la prossima sfida che è quella di precisione artistica. Qui voglio spettare il tuo parole di un talento. I vestiti suo vanno a voi. Con una macchina così straordinaria la Formula 1 non può che vincere. Dovete riuscire a disegnare dei geniti con i vostri di human che ci sceglie nella vostra zona. Io consiglio al campione del titolo di altruist quello è il fondo. I primi c'è il tuo spazio caccia. Vai. l'avversario signorina meravigliosa precisi santa la passiva. Oh, lui è giomento come no, eh. Quest'altro è fuori di testa. Pazzo a Zaraite. Oh, hey. Campione, 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 campione. Guarda le roba si è giusto così. Non credo. Cazionissimo anche se sono del primo avversario sono stati straordinari. Fantastico. con il primo avversario. Però adesso non è riuscivano da un sistema non è riuscita. Rosano, signore, punto al primo avversario. Questo punto è anche questo nel team dei robot carassi. 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1. Avete, 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 avete. Grazie, 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 grazie. Vai, partiamo? Vai, partiamo. E vinciamo. Vittoria. Mettimi giù, mettimi giù, mettimi giù. Grazie, grazie. Faccio salutare i campioni del remoto che sono stati davvero straordinari e bravi. Ma il punto da segnare è tutto nel team O'Qui. 3 a 2, non ce lo togliere. 3 a 2, ma se non ce lo togliere. 3 a 2, ma se non ce lo togliere. Ah, non ce l'ha capito, ma se non ce l'ha. Ma se non ce l'ha. Iorina, 3 a 2, ma ci state vincendo voi. Noi abbiamo solo vinto la sfida, eh. E adesso? Adesso. Facciamo su sé. Su sé. Non si ferma più. E allora, non posso. E allora, attenzione da quella parte. Sono in arrivo, infatti, mezzi pesanti. Bob. E' bravo. La ferma lì. Mi lasci fare. Va bene. Vai, vai, ti corri. Attenzione perché è partita la sfida. Una sfida molto semplice, a parole. E infatti i campioni vorranno vicino a riportare i loro mezzi pesanti da questa parte. Suolo partiti. Suolo. Il campione del team delle office. E' già sulla via del ritorno. Il punto è nostro. E siamo sulla 3. A 3. E' pareggio, pareggio. Ma che non basta. Il campione, il campione. Bob. Figgio a quel mezzo. Libero la pista. E lanciano la sfida finale. Siamo arrivati in quattro. È un momento felice. E' un bello. Grazie. Che buono. Non dico niente. Guardate qui. Finita con lei. Ha detto detto. Arrivo a prenderla. E' sì. Ha presato. Ma che non deve però obbligo. Attenzione. La macchina nel fondo. Occhia una nera. Che andassi qui. E' questa volta per tutti. Che non ci vogliamo. Di te. Di te. Di te. Di. Pronti. Attenzione. Mori. 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 In solita. E' in uno. E' in uno. Ce l'abbiamo fatta. Vai. Ma no no. Aspetta che c'è. Ma me ne occupo io. No. Vai avanti. Ci penso io. Vieni con la testata. Passa di qua. Passa di qua. Anche se dovete sporcare le mani. Attiviamo la nostra calavita gigante. E vieni. Voglio poterti infine in prima linea. Eccolo. Grazie. Grazie. Sparalo. Sparalo. Mori. Occhia del mondo. E' un po'. E' un po'. Vale. Ricordi. Yano. ึORE. State tranquilli e sereni. Yano. Te nemò qui. Sparolo in. prepara la macchina che farà la differenza la corsa poi tattivo, tattivo, tattivo via guarda per l'altra dire impegnato, bravo bravo, non stanno riposare forza ancora una quarantina di secondi bravo, speciale, pronta balani e ci sei fatto un colpo grazie ci siamo davvero guardate la visita, poi da buona parte potremmo dare i vostri telefonini perché il prossimo sarà un momento indimenticabile eccola, è speciale, la nostra nuova da mudo bravo 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 vai su, vai su, vai su bravo 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 che emozione che buono di farci metà piole abbiamo vinto un cento da andare un cento da andare in assoluto bravo 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 e grazie a questo momento ci siamo ormai prontissimi a vedere la prossima prova signore, signori è arrivato il momento della sfida di coraggio risosare grazie a tutti che risponare e non It hurts my ear It hurts my heart Let's go to the floor Is it a joy? It's waiting for that one It's coming! It's coming! It's coming! It's coming! Grazie a tutti 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 Aspettate che ancora voi vi può sentire Appena avrà tolto casco protezione è pronta Un'esplosione per lui Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Eccolo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti